Si preannuncia un gennaio infuocato per le scuole aquilane. Il tema è ancora una volta il dimensionamento scolastico, tanto osteggiato da docenti e genitori. I prossimi giorni saranno decisivi per capire che effetto avrà questa manovra decisa dal Comune, passata pure in Regione, sul rimescolamento dei docenti delle scuole medie. Una vicenda complessa che in questi mesi ha visto assemblee, raccolte firme, tavoli con il ministro Fioramonti ormai dimessosi e le repliche del Comune e dell'assessore Bignotti. La paura dei docenti è di perdere, dopo anni di servizio stabile negli istituti ai quali erano stati assegnati, le posizioni acquisite e di dover subire dei trasferimenti. La CGL per il prossimo venerdì ha così promosso una nuova assemblea, al quale è stato invitato a partecipare sia il personale ATA che quello docente. Ci sarà come ospite Amerigo Campanari, esperto di mobilità della FLC nazionale. L'incontro ci sarà dalle 8.30 alle 10.30 nell'aulamagna dell'ITIS. Miriam Del Biondo della CGL ha spiegato che nonostante le rassicurazioni, le operazioni relative al personale stanno creando forte preoccupazione e confusione tra i docenti. Il sindaco Biondi nei giorni scorsi ha intervenuto sul tema, spiegando che si impegnerà anche con l'ufficio scolastico regionale per dirimere le questioni di gestione del personale, che anche grazie alla protesta nei docenti coinvolti, soprattutto quello della secondaria di primo grado, stanno emergendo con forza. La Del Biondo, come altre, continua a sostenere che per il piano di dimensionamento si poteva attendere almeno un anno, condividendolo pienamente con la città, con chi vive ogni giorno la scuola e con la popolazione. Avrebbe permesso questo una maggiore distensione operativa. Venerdì, insomma, se ne discuterà nell'assemblea. I sindacati sono pronti a vigilare, affinché le norme siano applicate in modo corretto e nella forma meno dolorosa per i docenti. I sindacati sono pronti.